Nonni e nonne vigili arruolati per proteggere l'ingresso nelle scuole primarie cittadine. Sono 14 pensionati che dopo una selezione e un corso presso il comando della polizia locale hanno indossato cappello, pettorina e fischietto per un servizio che il comune di Sassari ha definito di grande importanza sociale. Sostituiranno i vigili del comando nei presidi sguarniti di controllo, integrando così le operazioni a tutela di bambini e genitori nel caotico momento dell'ingresso a scuola. Per ora, nonne e nonni vigili prestano il servizio volontario nelle scuole di Via Porcellana, Via Pavese, Sacro Cuore, Via Forlanini, Via Era e San Donato. Altri volontari saranno formati per ingrossare ulteriormente le fila delle pettorine arancioni. Nelle intenzioni del comando retto da Gianni Serra e del comune, i volontari potranno essere impiegati anche in altre situazioni critiche di ordine pubblico, come sorveglianza in eventi di carattere culturale o manifestazioni con patrocinio di organi istituzionali. Per venire incontro ai nonni vigili, che devono spostarsi per i loro servizi, la TPD Sassari ha deciso di donare ai volontari un abbonamento gratuito per i mezzi pubblici cittadini.